Chiamo in scena Ilaria Magna Guagno. Ciao Ilaria, ecco anche per te il microfono. Allora, Ilaria, anche tu sei una new entry, candidata alla dodicesima edizione, arrivi da... Io sono originaria di Verona, però attualmente sono residente a Schio, in provincia di Vicenza. Ok, come hai scoperto Premio Lucio Dalla? Premio Lucio Dalla anche io l'ho scoperto grazie ai social, alle pubblicità e quindi ho deciso appunto di provare a buttarmi perché per me questa sera è un'emozione unica, nel senso che per me è la prima volta che porto un mio brano davanti a un pubblico perché ho deciso di trovare il coraggio e di buttarmi e quindi grazie a Premio Lucio Dalla ho questa opportunità e ho deciso di partecipare anche a questa bella vetrina. E anche noi ti ringraziamo come gli altri di essere qua questa sera. Titolo del brano? Lascio andare. Ilaria Magna Guagno. Applausi. Lascio andare. Lascio andare per poter capire se è giusto e se dovrà finire. Lagrime che nego perché penso che mi rendano invincibile Ma non basterà, non basterà, non basterà Finché non mi accorgo che la vita mi domanda di essere presa così com'è E perché alla fine è come un sole che risplende solo per me, solo per me Lascio andare per non fermare Nuovi segni che non so vedere Ferma nei pensieri che non riesco a trattenere Resto immobile ma non servirà, non servirà, non servirà Finché non mi accorgo che la vita mi domanda di essere presa così com'è E perché alla fine è come un sole che risplende solo per me, solo per me Finché non mi accorgo che la vita mi ha detto Perché alla fine è come un sole che risplende Solo per me, è solo per me Lascio andare Lascio andare Grazie Grazie